Salve a tutti i watchigabari e bentornati sul The Cartoon Show 2 Oggi vi parlo di Squittolo Scogliattolo In originale Scary di Squirrel Che sicuramente voi non lo sapete ma Squittolo Scogliattolo è nato come Libro Libro Non come il cartone Libro Allora parliamo del programma televisivo Ok Squittolo Scogliattolo è una sete di animazione canadese Prodotta da Nilvan nel 2010 Ed è concluso nel 2013 e in tutto ha tre stagioni La trama parla di Squitto Che è uno scogliattolo che viene nella città immaginaria di Balsta City E lui lavora in un supermercato E praticamente come lavoro fa quello che mette a posto le scatole Lo scaffalista tipo credo Allora Squitto ha un enorme problema Diciamo ragazzi Che è molto fifone Ha paura di qualsiasi cosa E soprattutto è un maniaco dell'igiene Seriamente Se trova qualcosa di sporco Lui O prende un mega infarto O si arrabbia Vuole tutto perfetto Il suo capo è Nestor Che è un canarino un po' antipatico Rompiballe Pessimo Nestor ha una madre molto più cattiva di lui Cioè Mamma Mamma E basta È molto intimidatoria Nevrotica E basta Il mio amico di Squitto lo scogliato è Dave Che ogni volta da quello che mi ricordo dice sempre la frase Wappa Praticamente è un idiota È scemo È stupido Adramangiare Però molte volte In molti casi Se Squitto fa un casino Alla fine è sempre Dave che la risolve In qualche modo ci riesce Anche se poi dice Che cosa è accaduto Perché Come mai Non dimentichiamoci anche di Sally Sally è questa Pesciolona Sta trotta Che è super innamorata di Squitto Però Squitto non prova niente per lei Anzi La odia con tutto il suo cuore Veramente Sally è una che adora tanto baciare E il rivale di Squitto È Paddy Patterson Che è questo bandicoot E si vanta perché è un grande vincitore E detesta Squitto Ecco qua Ma Un personaggio magnifico È sicuramente la pianta Che non parla Però raga è sempre presente Mi ricordo una puntata Che hanno trasmesso più di 40.000 volte Dove Squitto diventa ossessionato da Richard Allora ragazzi Questo cartone Insieme ai fanteroi Lo vedevo sempre su K2 E devo ammettere che mi piaceva Tanti lo ritengono uno dei peggiori cartoons del mondo Ma secondo me No ragazzi È veramente bello Sabiamo tutti quanti che K2 è peggiorato molto ormai È quello che ho capito bene Però Squitto e scogliatolo Mi faceva ridere Mi piaceva Era interessante Forse il carattere dei personaggi Era un po' strano Squitto con queste Mania di essere tutto perfettino A volte può Anche dare fastidio Però Mi piace Ah E per chi non lo sa Il titolo originale È comunque Scary di Squirrel Che vuol dire Lo scogliattolo Fifone Che si spaventa Un po' Il problema ragazzi È che Squitto lo scogliattolo Oltre che non è durato tantissimo Come cartone Si può considerare come Ormai Un po' Dimenticato Già Però ragazzi Secondo me Squitto È uguale Al personaggio Dei videogiochi Conker Lo scogliattolo Di Conker Bad Fury Qualcosa del genere E Sì Questo è Lo scogliattolo più maleducato Dei videogames Sono molto simili Ma la cosa più divertente È il fatto che Squitto è nato come libro Ma nel libro Squitto non vive In una città gigantesca Non va A lavorare in centro commerciale Non c'ha come miglior amico Una puzzola È diversissimo il libro Ne hanno fatti anche altri Eccetera Io lo dico Squitto scogliattolo È un cartone Bello Però non mi ha mai fatto Impazzire Però sono contento Che me lo ricordo Ancora adesso Molta gente Non ne parla mai È Veramente Se qualcuno dice Oh conosci Squitto lo scogliattolo È Cosa Non ricordo Eh Vabbè ragazzi Ecco qua Quindi io penso di concludere Questo episodio Del The Cartoon Show 2 Non c'è più altro Da dire Ah e comunque Io ho sempre tenuto La sigla Molto strana No perché fa tipo così Bimba Buba E ciao Ciao Grazie a tutti